Oggi siamo a Costermano sul Garda, piacevolissimo posto sopra il lago di Garda, siamo ospiti di Sara e Federico alla Casa degli Spiriti, oh Arturo buongiorno, oh Sara, ciao Renato benvenuto, grazie molto bello, come sempre piacevolissimo ma soprattutto oggi faremo conoscere ai nostri amici questa splendida location, non vedo l'ora, grazie, scendiamo, passiamo dalla nostra cantina, sempre bello, sempre rifornita, Federico so che è lui la mente di questa poi c'è Arturo, ma poi hai tre sommelier, eh sì, i nostri grandi uomini qui della casa che aiutano Federico in quella che è la selezione dei vini nazionali e internazionali magnifica la vista come sempre, prego Renato, grazie, grazie, ed ora ti lascio nelle ottime mani del nostro Michele, oh Michele, buongiorno, come andiamo? Buongiorno e bentornati, grazie, grazie, molto bene, grazie, piacere averla rivista. Bene signor Renato, iniziamo con un aperitivo volentieri? Penso sia la cosa più gradita. Bene, mi permetto allora vado a prenderlo, grazie. Bene signor Renato, iniziamo con il nostro aperitivo di benvenuto, come di consuetudine si ricorderà bene, con prende delle verdure disidratate, i nostri grissini fatti in casa al fior di sale, tutte piccole stuzzicherie, tutte piccole stuzzicherie che fanno bene. La nostra piattaforma è dove presentiamo un lecca-lecca di parmigiano reggiano, un trancio di trotta affumicato in casa con un crunch di olive, una nocciola di macadamia leggermente tostata e salata, delle verdure passate in tempura quest'oggi, fiore di zucca e foglia di salvia, una mousse al basilico, nelle nostre cocotte troverà le chips di patate, topinambur, violet e dolci americani, per completare il tutto con dei biscotti fatti in casa e dei semi di zucca gialla, mantovani, leggermente tostati e salati. Buon inizio. Grazie. Bene signor Renato, cosa gradisce pranzare oggi? Allora, la carta che avete è fantastica, ma voglio fidarmi di te e magari anche dello chef. Perfetto, allora mi permette, vado a chiamare lo chef. Sì, grazie. Grazie mille. Grazie. Paolo, come stai? Benissimo, grazie a lei. Bene, grazie, molto bene. Paolo Cappuccio, che è poi il re di questa cucina. Cosa mi proponi? Sì, bene, oggi ho pensato a tre piatti nuovi di questa stagione, da una nuova carta. Allora abbiamo un non pizza di pesce, pomodoro e mozzarella, un altro piatto molto interessante, sono i ravioli di piselli con astici e totanetti scottati. Un altro piatto, invece, siccome abbiamo il foie gras e i crostacei, io ho fatto un abbinamento con borragine, scampi e foie gras, quindi pensavo questi tre piatti nuovi da farti provare. Mi va benissimo e assaggiamo tutto. Bene, ultima cosa, abbiamo i dolci, un dolce nuovo che abbiamo in carta, una stratificazione di frutta esotica, con un sorbetto al mango e zenzero, molto fresco, molto simpatico. Se ti va, volentieri. Ma molto volentieri, grazie. Perfetto, allora vado al lavoro e ti avrò buona continuazione. A più tardi, grazie. A più tardi, grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.